Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del Tg Versilia. In primo piano c'è la pagina politica verso le elezioni amministrative di primavera a Camaiore. Si compone il quadro delle candidature. Oggi ha sciotto la riserva Marco D'Addio, consigliere comunale di opposizione, quota Forza Italia, che decide di candidarsi a sindaco in prima persona, in qualche modo certificando una spaccatura interna al fronte del centro-destra. Sentiamo il servizio. Marco D'Addio si candida al sindaco di Camaiore. Ha scelto la sua pagina Facebook, il vulcanico balneare lidese e consigliere comunale, per sciogliere la riserva su una candidatura ormai nell'area da mesi, dopo il lancio dell'associazione Idee. Alle elezioni di primavera punta a rappresentare qualcosa di nuovo, un segnale diverso da dare alla gente amareggiata e deluso dal partitismo e dalla politica del non fare. Figlio di Palmiro D'Addio, figura storica della politica camaiorese, nel 2012 viene eletto con la lista civica per Matteucci sindaco, risultando il più votato, per poi aderire al gruppo di Forza Italia, tesserato già ai tempi del Popolo della Libertà. Presidente della società camaiorese Ripallavolo, UPC Volley, e uomo di spicco dell'associazione ABC di Lido, D'Addio, con la sua candidatura, di fatto cristallizza le divisioni del centro-destra. Con lui, infatti, c'è un pezzo di Forza Italia, tre consiglieri comunali su quattro. Accanto c'è la candidatura di Giampaolo Bertola, sindaco per due mandati, sostenuto dalla Forza Italia, del commissario David Marcucci, dalla Lega e da Fratelli d'Italia, e dall'associazione La Rondine. Una spaccatura nata all'indomani della sconfitta del 2012, e adesso sempre più marcata. Dall'altra parte, osserva, forse con un sorriso in più, il sindaco uscente del PD, Alessandro Del Dotto, candidato unico del centro-sinistra. Alle prese, tuttavia, con il possibile arrivo dell'associazione Buon Vento, del sindaco di Vereggio, Giorgio De Ghingaro, a strappare consensi e delusi del PD con una lista ad hoc. A completare il quadro, in solitaria, c'è il Movimento 5 Stelle, che ha scelto Francesco Ceragioli, che per adesso è rimasto lontano dai riflettori. Alla candidatura di Marco D'Addio arriva il sostegno anche del capogruppo di Forza Italia a Viareggio, Rodolfo Salemi. A Camaiore poi si è parlato in questi giorni, dopo il capodanno del tentato omicidio, resta in carcere l'uomo accusato di aver accoltellato un connazionale nigeriano e di aver provocato ferite, per fortuna non gravi, evitando così la morte della persona che è stata aggredita. C'è stata la convalida dopo l'interrogatorio di garanzia in procura a Lucca, ma ancora si attendono aggiornamenti su questa vicenda. Intanto c'è una notizia che arriva dal comune, l'altro lato positivo dell'accoglienza di migranti, quelli ospitati dalla misericordia di Lido di Camaiore, che hanno concluso in giornate i lavori di ripulitura del parcheggio di Via Fonda, prospicente del campo sportivo. Zona oggetto di abbandoni indiscriminati di rifiuti, vegetazione che era cresciuta ricoprendo alcuni posti d'auto, hanno lavorato sul posto i volontari insieme ai richiedenti asilo gestiti dalla cooperativa Il Girasole per conto della misericordia di Lido che cura l'accoglienza di migranti sul territorio di Camaiore. Ci saranno altre operazioni di pulizia nei prossimi giorni, ad esempio il borgo storico di Gombitelli. Questa è una foto che vede all'opera gli ospiti delle strutture. Andiamo adesso a Via Reggio, dove l'amministrazione dà il via ad una lunga e attenta operazione di ricambio dell'illuminazione pubblica, un risparmio del 50% grazie a luci a LED. Vediamo il servizio. Più luce, maggior risparmio e più sicurezza. Questi gli obiettivi del piano di riqualificazione dell'illuminazione cittadina partito in questi giorni. Una sperimentazione inserita nel contratto con Citellium, firmato a inizio anno dall'amministrazione del Ghingaro, che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED più moderne e funzionali. È previsto un intervento su tutti i corpi illuminanti di Via Reggio. Ovviamente da zona a zona valuteremo la modalità con le quali sostituirli, in particolare nelle zone di pregio. è chiaro che sceglieremo dei corpi illuminanti in accordo con la sovrintendenza. Quindi l'intenzione è quella di estendere a tutta la città la sostituzione delle lampadine e dei corpi illuminanti. Ovviamente non sarà una cosa brevissima, ma noi contiamo di qui all'estate di aver sostituito tutte le luci. Tra i risultati dell'operazione, oltre al risparmio energetico, circa il 50% in meno rispetto al consumo attuale, c'è anche il vantaggio di una maggiore illuminazione in città. Nel dettaglio sono già stati sostituiti 100 punti luce nel quartiere Diaz e Duca d'Aosta, 14 in piazza Maria Luisa, davanti al Principino, 30 in via di Montramito, 80 nel quartiere Terminetto, 30 in via Comparini e 40 a Torre del Lago. Prima della stagione estiva, dunque, la città di Via Reggio sarà più luminosa e soprattutto più sicura. Il sindaco del Ghingaro ha incontrato il presidente dell'Unione dei Comuni della Versilia, Maurizio Verona, che ha detto definire quanto prima l'ingresso di Via Reggio nell'Unione per avere una Versilia più forte. Del Ghingaro ha discusso a lungo, mostrandosi disponibile a lavorare affinché anche Via Reggio entri a far parte dell'Unione. Si legge in un comunicato emesso poco fa. Il prossimo step sarà l'approvazione dello statuto, il nuovo statuto, che include anche Via Reggio, da parte del Consiglio Comunale di Via Reggio e del Consiglio dell'Unione. Verona incontrerà presto, fa sapere anche il sindaco di Pietrasanta Mallegni, che aveva manifestato alcune perplessità sul futuro dell'Unione, per capire quali sono gli spazi di lavoro per recuperare il rapporto istituzionale, così scrive il presidente Verona in una nota. Ed è lutto nel mondo dello spettacolo, è morto nella notte Niki Giustini, 52 anni dopo settimane di apprensione, purtroppo non ce l'ha fatta. L'attore comico e conduttore TV era molto amato, lanciato dalla popolarissima trasmissione sul finire degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, vernice fresca andata in onda su 5 Stelle dalla bussola di Focette, ne vediamo alcune immagini di quel periodo, nato in Irlanda da famiglia toscana, poi tornato subito in Toscana, immediato il sodalizio, prima con Leonardo Pieraccioni, poi con Carlo Conti, lo vediamo ancora insieme in queste immagini, e proprio dal palco della bussola di Focette parte la sua lunga carriera, che lo porterà poi anche insieme ad altri comici, come Graziano Salvadori, sugli schermi della RAI, di Mediaset, e molte altre popolari trasmissioni di caratura nazionale. Parole di cordoglio anche da numerosi esponenti locali del mondo dello spettacolo. Ed è stata una folla davvero che ha salutato invece martedì a Vittoria Puana a Forte Remarmi per l'ultimo saluto per i funerali il dottor Sauro Marchetti del 118, amatissimo da colleghi e da tantissimi volontari della Versilia. Guardiamo il servizio con le immagini di Roberto Tommasi. Un abbraccio immenso da tutta la Versilia a Sauro Marchetti. In centinaia martedì pomeriggio si sono riversati a Vittoria Puana a Forte Remarmi per dare l'addio al medico versiliese scomparso all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. Operava per il 118 da oltre 20 anni, ma anche sul territorio e nel settore delle emergenze urgenze. Tantissimi i volontari delle associazioni del Forte e non solo che hanno sfilato in strada accompagnati dai labari per raggiungere la chiesa di San Francesco. Ad accogliere il suo arrivo il suono delle sirene delle ambulanze e un'ondata scrusciante di applausi. Prestava servizio sia nella centrale operativa dell'ospedale di Lido, poi divenuta punto di riferimento anche per Lucca e Massa, sia nell'automedica che alla sua base di partenza a Querceta. A mostrare l'affetto del territorio per il medico e la vicinanza alla sua famiglia, la folla di amici, colleghi, medici e volontari sanitari provenienti da tutta la Versilia. Intensa e struggente la cerimonia funebre con tanti interventi, fino all'uscita di chiesa, sempre segnata dal suono di quelle ambulanze, quel suono che per una vita ha accompagnato il lavoro del dottor Marchetti. Veniamo adesso alla cronaca. Cani in fuga dai botti di Capodanno salvati dalla polstrada di Viareggio. È successo nella giornata del primo dell'anno. I due cani, Leone e Varen, stanno bene. Si tratta di un bassotto e di un pastore tedesco. L'episodio che ha visto i poliziotti della stradale di Viareggio è avvenuto sulla 12 all'altezza di Carrara. I poliziotti Viareggio, dopo aver avvistato l'animale che stava scappando dopo essere stato spaventato per i botti, hanno effettuato una manovra a Tenaglia per impedirli di finire sotto le auto in transito e poi sono riusciti a metterlo in salvo. È stato poi riaffidato ai suoi padroni che lo hanno riportato a casa. Ancora per la cronaca, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Pietrasanta per furto aggravato. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Lucca, sarebbe lui l'autore di uno scippo commesso il 15 settembre ai danni di una donna di Pietrasanta. La signora era stata sottratta alla borsa sistemata sul cestino della bici. Il giovane adesso si trova ai domiciliari nella sua abitazione a disposizione dell'autorità competente. A Viareggio due tentativi di furto in appena un'ora nella notte, a un'ora di distanza. Il primo è stato ai danni di un negozio della zona industriale di Via di Montramito. La ditta Sevara per l'esattezza che gestisce trattamento e smaltimento di rifiuti industriali. Malintenzionati hanno infranto il vetro di una finestra, sono entrati dentro, ma è scattato l'allarme e si sono dati alla fuga. Stessa scena. Poco più tardi, in Via Regia, angolo Via Fratti, un negozio di fiori e piante, ladri in fuga, indaga il commissariato di polizia. E adesso invece parliamo dell'imminente stagione dei saldi invernali. Si parte con la vigilia della Befana dal 5 di gennaio per due mesi la caccia all'offerta è partita. Sentiamo i consigli della Confesercenti. Pronti? Carta di credito in mano e via verso la nuova stagione dei saldi invernali che in Toscana parte giovedì 5 gennaio e avrà la durata di 60 giorni. Si inizia con sconti variabili nei vari settori merceologici per toccare punte anche del 70%. Per le associazioni di categoria la data unica del 5 gennaio in tutta Italia per l'avvio dei saldi è più che positiva per il commercio che può così garantire equilibrio concorrenziale. Quanto spenderanno i versiliesi dopo la corsa al regalo di Natale? Difficile pronosticarlo ma secondo Confesercenti Versilia i saldi invernali dovrebbero risultare un buon affare per il commercio. I saldi rappresentano indubbiamente una occasione importantissima sia per i commercianti che per i consumatori. Per i commercianti quest'anno in maniera particolare è considerato il fatto che tutto sommato le vendite di Natale sono state di molto inferiore alle aspettative. Noi stimiamo che circa il 58% dei italiani ricorreranno agli acquisti nel periodo di saldi soprattutto per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento e delle calzature e che in teoria se le previsioni verranno rispettate si avrà un valore stimato intorno ai 4,9 miliardi di euro spesi in questo periodo con una spesa media per ogni acquisto per ogni acquirente per ogni famiglia di circa 330 euro è chiaro che questi sono valori stimati sul territorio nazionale che poi chiaramente a seconda delle zone avranno un'incidenza diversa per Viareggio visto che veramente ha sofferto molto nel periodo natalizio perché l'andamento delle vendite è stato nettamente inferiore alle previsioni che erano state estimate ci auguriamo che i saldi abbiano un impatto favorevole e per le aziende e anche per i consumatori e che in qualche modo vengano anche assicurati dei dovuti controlli soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle regole che la legge impone in questo settore Il comune di Fortele Marmi non anticiperà più gli 8 milioni di euro al CAV Consorzio Ambiente Versilia per il pagamento delle somme dovute a termomeccanica per la nota avvertenza che vede coinvolti i comuni della Versilia per la vicenda dell'inceneritore di Falascaia sono stati ritirati infatti i primi due punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è svolto martedì scorso a Villa Bertelli lo rende noto lo stesso sindaco Buratti si trattava di 8 milioni di euro appunto che il comune si era offerto di anticipare siamo reduci da un incontro con termomeccanica medio credito italiano i comuni di Seravezza Massarosa e Pietrasanta detto Buratti per fare il punto sulle scadenze sono stati ottenuti 90 giorni di proroga che consentiranno dunque di ottenere finanziamenti da un istituto bancario a favore del CAV e dunque non serve l'intervento del comune di Pietrasanta di Fortele Marmi scusate decisione che aveva creato non poche polemiche e pareri negativi nella cittadina versiliese veniamo adesso alle festività ancora l'epifania tra pochissimi giorni in attesa dei reimmaggi noi vi mostriamo un presepe molto particolare realizzato dalla cooperativa Crea nella chiesa di Sant'Antonio a Viareggio vediamo ceramica ceramica e cartapesta sono i materiali scelti per un presepe nel segno della creatività e della partecipazione è quello realizzato dai ragazzi della cooperativa Crea ed esposto fino a dopo l'epifania nella chiesa di Sant'Antonio a Viareggio nell'ambito della rassegna annuale una rappresentazione originale della natività quella assemblata nel capannone del centro di urno di via Virgilio caratterizzata da un contrasto cromatico bianco e nero la parte della ceramica è stata curata principalmente dal nostro utente storico Giancarlo Gai che ogni anno diciamo questa è la decima edizione mette a disposizione la sua arte e il suo saper fare e dà un'interpretazione originale del presepe e quest'anno la sua scelta è ricaduta sull'utilizzo di un colore soltanto quindi sull'uso del colore bianco c'è tempo fino al 9 gennaio ben oltre l'arrivo dei Remagi per ammirare il bel presepe il progetto creando il presepe giunto alla sua undicesima edizione è a sugello del lavoro che la cooperativa crea e i suoi operatori fa ogni giorno con i suoi ospiti abbiamo realizzato come tutti gli anni un presepe sempre partendo dalla ceramica o meglio da quella che è la creta che viene lavorata dai ragazzi in un primo momento quando è cruda quindi quando è morbida quindi c'è un lavoro di manipolazione in seguito viene cotta in un forno che noi abbiamo che raggiunge mille gradi la maggior parte delle statuine sono state sempre da ragazzi cristallinate quindi lucidate e ricotte una seconda volta per dare quella sensazione quella visibilità di lucentezza tradizionale concerto augurale dell'Epifania giorno della Befana le scuderie granducali di Seravezza vediamo ancora una volta sarà un grande successo il concerto augurale di Epifania 4 Memorial Doria Pennacchi Santini che si terrà al teatro scuderie graducale di Seravezza venerdì 6 gennaio con inizio alle 17 ingresso gratuito la manifestazione rappresenta una delle punte più elevate delle manifestazioni programmate a Seravezza durante il Natale tanto sul piano artistico che su quello della solidarietà infatti al concerto parteciperanno al titolo gratuito Dino Mancino Giulio Salvatori la corale lirica versiliese Giovanni Vitali Pietro Castellari Marco Simonelli e due cantanti lirici finalisti al concorso La Fenice 2016 il concerto nasce nel 2013 in occasione delle celebrazioni del Lodo di Papaglione X nasce anche come un dono festoso musicale come buon auspicio per il nuovo anno e quindi siamo giunti alla quarta edizione il concerto è promosso e sostenuto in maniera congiunta dalla sezione territoriale dell'istituto storico lucchese e dal comune di Seravezza all'iniziativa ha collaborato anche l'associazione culturale La Fenice la nostra collaborazione si configura in questo due cantanti una soprano e un tenore parteciperanno a questa bellissima serata e quindi ci sarà questo bellissimo connubio e noi siamo molto orgogliosi di questa collaborazione ci fermiamo per pochissimi minuti tra poco ancora insieme con le notizie sportive ben ritrovati con la pagina sportiva in apertura questa sera i motori la esperienza imminente di un versiliese alla Parigi Dakar si tratta dell'ex calciatore l'idese Ricky Likre sentiamo il nostro servizio ha coronato il sogno che inseguiva da tempo Ricky Likre l'ex calciatore professionista trentenne via Reggino che ha interrotto la sua carriera dopo aver vestito le maglie di Chievo Piacenza Modena e Bologna prende parte infatti alla Parigi Dakar la competizione che ha preso il via il 2 gennaio da Ansuchon in Paraguay e terminerà Buenos Aires fra 12 giorni dopo aver percorso 9.000 km Ricre fa parte dell'RT Team Dakar che prende parte alla competizione con due auto Ford e con due camion uno di questi è appunto condotto dall'ex calciatore Via Reggino due vetture presenti con i camion uno in assistenza con tutti i meccanici e l'altro in gara quindi un'esperienza importante unica per Ricky Likre che ora che ha interrotto la carriera a tempo a sua disposizione quindi colonna il sogno della sua vita in bocca al lupo Ricre Il calcio adesso la Via Reggio Cup 2017 la Juventus la squadra che detiene il trofeo sarà presente alla 69esima edizione della Via Reggio Cup in programma ricordiamo dal 13 al 29 marzo la conferma è arrivata in queste ore dalla società del centro giovani calciatori che organizza da sempre la manifestazione l'ok su pista adesso invece Coppa Italia sentiamo allora oltre agli abbinamenti che già conosciamo anche come si svolgerà l'imminente manifestazione con gli orari e tutte le informazioni per seguire l'evento Una volta che Ila Follonica ha comunicato il programma e gli orari della Finale 8 di Coppa Italia 2017 non sono certamente mancate le polemiche da parte di alcuni tifosi per gli orari un po' scomodi per poter assistere alle partite venerdì 24 febbraio si parte con il quarto di finale numero 2 alle ore 15 in programma con Bassano Lodi il quarto di finale numero 3 alle ore 17 100 giovani calciatori Roller Monza quarto di finale numero 1 alle ore 19 Forte De Marmi Sarzana e il quarto di finale numero 4 alle ore 21 Follonica Breganze sabato 24 alle 10 la semifinale di Coppa Italia femminile alle ore 12 la semifinale di Coppa Italia ancora femminile da definire il gruppo alle 15 è in programma la semifinale di Coppa Italia di serie A2 alle ore 17 altra semifinale alle ore 19 la semifinale del vincente del quarto 1 con il vincente del quarto numero 4 e la semifinale numero 2 in programma alle ore 21 per domenica 26 febbraio il programma prevede alle ore 15 la finale di Coppa Italia femminile alle ore 17 la finale di Coppa Italia di serie A2 alle ore 19 la finale di Coppa Italia di serie A1 la vincente tra la semifinale numero 1 e la vincente della semifinale numero 2 orari che in qualche modo non hanno quindi accontentato i tifosi che essendo giornate lavorative hanno qualche difficoltà per poter seguire i propri beniamini ci fermiamo ancora per pochi minuti tra poco ancora insieme terza parte del Tg Versilia ben ritrovati terza parte del Tg Versilia con l'intervento della Confcommercio sulla decisione del sindaco di Viareggio del Ghingaro di uscire dal parco Migliari non sa rostore massaciucoli arriva l'ok da parte dell'associazione dei commercianti di Confcommercio il tema dell'uscita ci trova sensibili visto che già tre anni fa proponemmo alla loro amministrazione di valutare questa possibilità e dunque il sindaco incassa anche l'appoggio da parte dei commercianti di Confcommercio adesso invece uno sguardo al nostro sito web www.reteversilianews.com per mostrarvi oltre la prima pagina che vi ricordiamo come sempre di sfogliare in home page le principali notizie della giornata potete anche vedere altre curiosità altre notizie e vi segnalo una notizia che riguarda lo sport a Massarosa con il raduno delle azzurre vi daremo anche maggiori dettagli nelle prossime edizioni con novità che saranno annunciate sabato in una conferenza stampa prima di chiudere c'è spazio per gli auguri dunque facciamo gli auguri di buon compleanno un diciottesimo compleanno a Mattia Tofanelli di Viareggio sportivo gioca a palacanestro ha iniziato nel velabasket di Viareggio ha preso il premio sport Viareggio nel 2010 passato poi nel Don Bosco Livorno gli auguri che arrivano dal papà Andrea dalla mamma Leda la sorella Dania la nonna Dilva ci sono anche tutti gli zii e i cugini davvero tanti auguri per i suoi diciotto anni a Mattia Tofanelli è tutto grazie per essere stati con noi e buona serata a Mattia Tofanelli a Mattia Tofanelli